bene ragazzi carichi come non mai da FizzGamer oggi ragazzi siamo con un video speciale napoli juventus finalmente ci risiamo con il nostro nemico sempre di nuovo vi ritrovo nemici maledetti saluti a tutti anche gli ascoltatori che mi hanno anzi come dire non si chiamano ascoltatori spettatori iscritti gli iscritti che hanno visto il video dell'altra volta mi hanno riempito di complimenti mi ricordo nota monnezza va bene dai dai allora ragazzi ci sarà la prima partita che di campionato tra Napoli e Juve poi se volete una seconda partita sempre durante la settimana che di Coppa Italia prima della partita di Coppa Italia fatemelo sapere qua sotto con un commento oppure con un mi piace mi raccomando quanti like dobbiamo arrivare mister Gabriele 100.000 100.000 visualizzazioni like forza you 100.000 100.000 vota in metà metti all'interno e a Torino si parla così anche se non è di Torino però ma c'entra sono di Napoli però vivo diciamo l'esperienza torinese ecco l'ulta per esempio significa letane piccolo di qua io sono più scarso alla play lo dico però me la gioco eh stadio San Paolo no perché ah si hai ragione stadio San Paolo sì sì perché in questa doppia sfida che ci aspetta giocheremo entrambe le volte in quel catino infuocato del San Paolo dico bene che c'è un po' certo lo stadio è un po' posso dirlo un cesso però vabbè abbiamo lo stadio mezza sacchetto fosse un popolo di sportivi applauditelo Iguain quando viene domenica e mercoledì da voi non fate qualificandovi qualificandovi non qualificandovi in Coppa qualificandovi in quello che siete ma è San Paolo eccolo le... Ritorna al San Paolo con questa visuale no? si avrebbe vabbè ok cominciano a Napoli e passano Napoli no 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 sta bene eccola vedi si può fare così per tutto per piacere dai andiamo a tenere un basso profilo c'ho dieci punti in più in classifica eh rispetto all'ultimo video come siamo visti c'ho dieci punti in più quindi stati attenti Issa la può mettere al centro dove c'è Kayon? è di campionato queste quindi Mertensi metten sulla destra, metten sulla destra, sulla destra, sulla destra, sulla destra, sulla destra, sulla destra, la può mettere al centro e che cosa fa Kayon? noooo fuori oh oh ok ok Zielisky, Zielisky la può mettere per Kayon Kayo dentro per Zielisky ma Gigi San Gigi San Gigi è esagerato Immortale c'ha quasi 40 anni quando è che muore? mai ma vedete questi siete proprio voi proprio tifosi mediocri quando muore applauditeli Wayne che vi ha dato 3 anni da sogno vi ha fatto 36 gol senza dirvi sareste una squadra con l'età quattiva non riesco a uscire no ma guarda dovrete fare il tipo per noi contro il bacio ma già so che non è così hai comune dovete decedere no ottimo amsic amsic per una per insigne ma possiamo prendere i gol in contro che da Napoli è impensabile prendere i gol in contro che da Napoli amsic farà per Kayakon 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 Molto sporco il Kulibaly piega l'ossatura di Higuain attenzione Higuain Kulibaly ma dov'è Higuain? voglio sapere dove Higuain in questo primo tempo va bene attenzione Kayakon 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 che tiro tiro fine del primo tempo partita diciamo completamente dominata dal Napoli come però superiorità territoriale ma zero tiri no zero tiri io sei diritto insigne insigne passano a Milik Milik che è fresco per lento fresco non sarei diavara per Ziliski Ziliski per Mertens Mertens al centro per Milik avanti dai dai di testa ancora Mertens angolo non è possibile eh devo mettere un bello traverso un eccolo qua diavara non è possibile Ziliski ancora no vabbè buffo miracoloso miracoloso vaffanmocca vaffanmocca sarebbe ma io a recarti nelle fauci eccolo lì ma che che è me mi ha messo buffone forse gg è forte però dai sta parlando così del suo portiere della nazionale voglio dire ma questi fanno so borboni è forte ma cos'ero a zero sono contenti un punto a napoli se fosse nella realtà sa domenica andrei tranquillamente a casa con un punto rimanendo a più 10 più 10 su di voi ma la realtà 0 dire una partita emozionantissima una partita piena di allora facciamo due chiacchiere sulla partita hai tirato 11 volte a porta mi sono solo difeso non ho mai tirato ma la forza gli scudetti si costruiscono sulla difesa diamo due dati siete il miglior attacco del campionato ma noi siamo la miglior difesa ma abbiamo 10 punti più è sulla difesa il calcio a champagne sorri panchina d'oro a te bisogna difendersi la trincea vediamo con barcellona va bene ci vediamo quindi se volete il match di coppa italia nella prossima settimana mi raccomando lasciate un mi piace nel commento iscrivete al canale noi ci becchiamo ad un prossimo video ci sarò ancora amo anche tanti tifosi del napoli sono amici miei ma a vita vengo pericare e e e e e